Salmo 91 per i figli. Signore nostro Dio, consegno i miei amati figli nelle Tue mani affinché Tu guidi e diriga le loro vite, consentendo loro di avere un destino luminoso e santo sotto la Tua guida. Perché so che solo Tu puoi salvarli. Solo Tu puoi liberarli da ogni male. Solo Tu puoi custodirli sotto il Tuo mantello, per proteggerli da ogni male e pericolo. Ti prego di tenerli forti e saldi nella tentazione e in tutte le follie che la loro vita conterrà. Cammina con loro. Tienili per mano. Illumina il loro cammino. Dà loro saggezza per prendere le migliori decisioni, affinché siano lucidi nei momenti più difficili della loro vita. In questo modo potranno restare sulla Tua via, senza rimpianti, sempre sotto la Tua santa luce, sotto la Tua divina protezione, alzandoli sopra tutto ciò che non è eterno. Avranno così un cuore gioioso e disponibile, una vita semplice e santa, con valori e responsabilità, obiettivi e sogni, una fede incrollabile. Protetti nella Tua presenza, con il Tuo Spirito Santo che rafforza le loro vite, specialmente nei momenti di oscurità e tristezza. Sapendo che Tu sei la loro forza, che Tu sei il loro salvatore. Solo Tu, Seigneur, sei adatto per proteggere i miei figli in ogni momento. Perché Tu sei santo, solo Tu, Signore, puoi aprire i cieli e illuminare i passi dei miei figli. Come membro della Chiesa e membro fondamentale della mia famiglia, so che solo a Te posso affidare la protezione dei miei figli, perché solo in Te confido, affinché li mantenga al sicuro, perché con il Tuo potere e la Tua magnificenza puoi liberarli da ogni pericolo, come se fossi con loro. Perché Tu sei il Padre, Tu hai risuscitato Tuo figlio Gesù e l'hai elevato ai cieli al Tuo fianco. Perciò ho fede che i miei figli saranno al sicuro nella Tua presenza, che Tu non mi tradirai mai, che li avrai sempre al Tuo fianco e quando sarà il momento, li porterai con Te in cielo, affinché siano vicino a Te, come se fossero con me, perché stando con Te, io sarò tranquillo quando lasciano la casa e quando avranno la loro propria dimora, perché Tu sei ovunque, sei onnipotente, sei il Salvatore. Le vite dei miei figli sono intrecciate con la Tua, perché così ho dichiarato sin dalla loro nascita. Sin dal concepimento, Te li ho affidati. Ho affidato a Te i loro corpi, i loro spiriti e le loro anime. Ma soprattutto, mio Signore, Ti chiedo di proteggere i loro cuori. Non permettere a nessuno spirito maligno o alcuna forza oscura di entrare nei loro cuori, rendendoli duri e insensibili. Fa, sì che i loro cuori siano puri e forti, che resistano a ogni tentazione che si presenta sul loro cammino. La nostra Santa Famiglia è sempre riunita nella Tua presenza. Vogliamo che il Tuo Spirito rimanga con noi per sempre. Non permettere mai che perdiamo la nostra saldezza nella fede, la fiducia nel Tuo Spirito e la forza nella preghiera. Aiutaci nei momenti difficili, nei momenti di dolore e angoscia. Proteggiti con la Tua mano. Pianta i nostri piedi sul Tuo cammino. Avvolgi la nostra casa con la Tua luce, anche se ci sarà osculità nel mondo. Che la nostra casa sia un esempio da seguire. Esempio dei Tuoi insegnamenti, della Tua guida sulla terra, del potere del Tuo Spirito che può rinnovare e costruire, che ci riempie di gioia, ci rallegra e ci sostiene in ogni momento. Perché siamo i Tuoi figli, siamo il Tuo popolo. Sappiamo che la nostra forza umana non è nulla in confronto al Tuo potere, perciò so che i miei figli hanno bisogno solo della Tua protezione per stare al sicuro, per essere felici, per essere santi. Amato Dio, benedici i miei figli nel loro cammino. Bendicili nel loro pellegrinaggio perché siano liberi, senza alcun legame nello spirito né nel cuore. Che ti lodino sempre. Che siano grati, grati a Te e ai loro genitori. Che si sacrifichino per dar loro il meglio e condurli sulla via della fede in Cristo. Fin dalla nascita, abbiamo cresciuto i nostri figli nella piena fede, affinché diventino persone di valore, ma soprattutto sante. Con speranza, con un cuore gentile ma saldo di fronte alla tentazione. Con valori incrollabili e forza per lodarti sempre. Ti ringrazio perché nella nostra famiglia possiamo rivolgere lo sguardo a Te. Sappiamo che tutto è effimero, tranne il Tuo Spirito. Tutto è passeggero, tranne la Tua potente mano che mette tutto al suo posto, qualunque cosa accada. Tu sei nostro Padre. Hai mandato il Tuo Figlio Salvatore. E la Tua promessa è ancora intatta. Ecco perché i miei figli sono Tuoi. Li affido a Te, Signore. Fa di loro la Tua volontà. Muovi il Tuo Spirito in loro. Proteggili, Signore. Sono la cosa più sacra che ho. Sono il mio tesoro. Ecco perché so che saranno al sicuro con Te, non solo fisicamente, ma anche mentalmente e spiritualmente. Rivolgi i loro cuori verso di Te. Che non si perdano nell'oscurità e che non cerchino altro sollievo che quello da Te, perché tutto il resto è falso. Solo Tu sei vero. Voglio che Ti adorino, che Ti cerchino nei momenti di disperazione e che Ti glorifichino nei momenti di gloria. Perché il Tuo potere, Signore, si estende su tutta la terra. Ti ringrazio per tutto l'amore che hai sempre dimostrato alla mia famiglia, specialmente ai miei figli. Perché hai mostrato loro che nei momenti difficili, Tu sei lì, trasformando le loro debolezze in forza. Ti ringrazio profondamente per prenderti cura di loro in vita e sono sicuro che lo farai anche quando entreranno nella vita eterna, perché saranno al Tuo fianco per sempre. Così darai loro il Tuo amore eterno. Perché li chiamerai e li guiderai verso una vita piena, colma del Tuo amore e della Tua misericordia. Sempre alla Tua presenza, sempre davanti ai Tuoi occhi e dentro i nostri cuori, in modo che la nostra famiglia non si separi mai. Che restiamo sempre uniti con il Tuo Spirito che ci guida in ogni momento. Voglio che entri nei cuori dei miei figli e li risvegli con il Tuo amore. Che ricevano tutto ciò che hai da offrire loro, per poter vivere tutto ciò che hai in serbo per loro e riconoscano la Tua volontà in loro. Ascoltali quando Ti chiamano. Proteggili dal freddo che può esistere nei loro cuori. Custodiscili con la Tua parola, perché la Tua parola è il loro aiuto. È il loro sostegno in ogni momento. Sarà il sollievo di cui i loro cuori hanno bisogno quando si sentiranno abbattuti dai colpi della vita. Accarezza le loro teste quando io non posso farlo. Così sentiranno il conforto del Tuo amore, un amore infinito, come quello che io provo per i miei figli. Fa, sì che i loro occhi si volgano verso la Tua presenza. Che Ti lodino, Ti onorino, ascoltino la Tua parola che dà vita. Che i loro occhi vedano tutto ciò che fai per loro. Affinché non abbiano dubbi che Tu sei il loro Padre, Tu sei il loro Salvatore e che la Tua luce illuminerà la loro strada quando camminano tra le ombre. Che li proteggerai con il Tuo mantello dal caldo e dal freddo, che la Tua misericordia cancellerà tutti i loro peccati, facendo risplendere su di loro la luce perpetua. E che aspettino con desiderio e gioia i giorni che verranno per la Tua gloria. Tu ben sai, Signore, che i miei figli sono tutto ciò che ho, che darei la mia vita per loro e che la mia famiglia ruota attorno a loro. Quando non sono a casa, mi angoscio, mi preoccupo per loro, desidero che tornino sani e salvi. Ecco perché te li affido, perché so di non dover temere con Te. Saranno protetti in ogni loro percorso fino al loro ritorno a casa, e questo mi tranquillizza sempre. Ho infinita fiducia nel Tuo potere, nel Tuo potere di protezione e salvezza, che mantiene tutti i Tuoi figli al sicuro sotto il Tuo manto. Sei onnipotente, i miei figli sono al sicuro con Te e per questo Ti ringrazio. Mi inginocchio e Ti ringrazio per tutte le volte che hai protetto i miei figli, per tutte le volte che li hai benedetti. Per tutte le volte che sei stato presente nei momenti buoni e cattivi, nelle occasioni in cui sono stati malati, spaventati, angosciati, indifesi. Tu eri lì, camminando al loro fianco, passando la Tua mano sulla loro testa, li hai consolati nel dolore e li hai incoraggiati nella gioia. Sempre circondandoli con la Tua presenza. Perché chi meglio di Te può prendersi cura di loro. Chi meglio di Te può guarire le loro febbri. Chi meglio di Te può battergli la schiena. Non c'è nessuno altro, nessuno come Te, Signore. Nessuno ha la Tua grandezza, nessuno ha il Tuo potere, nessuno ha il Tuo amore. Quell'amore infinito che compie meraviglie per noi e che sarà sempre il mio conforto e aiuto. Signore Dio, voglio ringraziarti per essere venuto su questa terra e averci scelto come Tuoi figli. So che è per questo che ci ami, senza condizioni. Vuoi solo che ti seguiamo, seguiamo la Tua strada. Ascoltiamo la Tua parola, che è la luce che illumina il mondo. Permetti ai miei figli di vedere quella luce, di ascoltare il Tuo Vangelo. Dalle un cuore sincero. Voglio che conoscano la Tua luce e ricevano la Tua salvezza. Illuminali con la Tua luce, manifestati a loro chiaramente. Così potranno conoscerti, potranno amarti e invocarti ogni volta che ti necessitano. Ti serviranno ovunque vadano, invocheranno il Tuo nome ogni giorno, riconoscendoti come il loro unico Salvatore. Questo è il mio desiderio, Signore, che i miei figli ti vedano come il loro padre. Che vogliano essere vicino a Te, desiderando la Tua presenza nelle loro vite. Ascoltando la Tua parola, circondati dalle Tue meraviglie, contemplando la bellissima opera che Tu hai creato. Perché Tu hai creato tutto, il sole, le stelle, tutto ciò che è bello. E mi hai donato il regalo più bello che Tu abbia creato, che sono i miei figli. Sono doni che risplendono nella mia casa e rendono la vita più bella. Ecco perché ti ringrazio ogni giorno. Ti chiedo in ginocchiata di proteggerli e benedirli sempre. I miei figli stanno crescendo, imparando cose nuove, esplorando la propria identità. Ti chiedo di concedere loro la Tua grazia, di fornir loro buoni pensieri, una mente pura, brillante e con buoni obiettivi. E che li usino sempre per la Tua gloria. Questo è il mio più grande desiderio, che tutti i loro talenti e doni li usino per lodarti e glorificarti. E per camminare guidati da Te, perché senza di Te non c'è niente. Non abbiamo niente senza di Te, Signore. Con Te siamo al sicuro. Con Te siamo protetti. Con Te abbiamo tutto e anche di più. Ecco perché non vogliamo allontanarci da Te. La nostra famiglia si concentra intorno alla Tua presenza. Abbiamo cresciuto i nostri figli affinché seguissero tutte le Tue norme. Non ci abbandonare. Resta con noi. Illuminaci con la Tua luce. Proteggici dalla tempesta. Senza di Te saremmo persi, abbandonati alla nostra sorte, senza nulla a cui aggrapparci, senza nulla tra le nostre mani. Perché solo il Tuo amore ci salva, solo il Tuo amore ci protegge, solo il Tuo amore può tirarci fuori dall'abisso. I miei figli non avranno una protezione migliore della Tua. Solo Tu ci doni un amore incondizionato, un amore infinito che non finirà mai, che sarà sempre con noi e che non ci abbandonerà mai. Per questo ci aggrappiamo a Te con tutto il nostro fervore, perché sappiamo che Tu non ci lasceresti mai. Per quanto lontani possiamo cadere, per quanto ci allontaniamo, Tu ci attendi sempre. Perché Tu sei il nostro Padre, il nostro Salvatore, la nostra unica forza. Ti amiamo Signore, sei il pilastro della nostra famiglia. Per questo i miei figli sono nelle migliori mani con Te, amato Padre Celeste. So che sei presente ad ogni passo che facciamo, ad ogni cammino che percorriamo. Non c'è nessuno migliore di Te per concederci ciò che i nostri cuori desiderano. E Tu sai ciò che desidero nel mio cuore. È che i miei figli siano protetti e sani. Solo Tu puoi concedermi il più grande desiderio del mio cuore, perché i miei figli sono dentro me. E se qualcosa li ferisce, mi ferirà anche a me. Non sopporterei di vederli soffrire, e per questo ti prego di tenerli tra le Tue mani e di averli sempre al Tuo fianco. Tienili sempre alla Tua destra, sempre al Tuo lato destro, perché sarà come se fossi sempre io a prendermi cura di loro. Ma io non posso stare con loro sempre, quindi Te li affido. Non ho dubbi che il Tuo amore per loro sia grande quanto il mio, che siano nel Tuo cuore come sono nel mio, perché li vedi con gli occhi di un Padre come li vedo anch'io. Tu sei ovunque, come io non posso esserlo. Tu allontanerai tutti i pericoli che non vedo. Tu sarai la mia voce quando loro non potranno sentirmi. Sarai le mie braccia quando io non potrò abbracciarli. Sarai la loro compagnia quando io non sarò con loro. E darai loro tutto il Tuo amore con la stessa intensità che io. Puoi prendere il mio posto e fare tutto ciò che faccio, ma in modo migliore. Per questo ti ringrazio sempre perché i miei figli sono al sicuro al Tuo fianco. E ogni volta che escono di casa, li metto nelle Tue mani. So che torneranno sempre, perché Tu li fai tornare da me. E quando se ne andranno da casa mia, so che la Tua presenza non li lascerà mai. Quindi sarò in pace, aspettando il giorno in cui torneranno nella casa in cui sono cresciuti e hanno imparato ad amarti infinitamente. Glorioso Signore, ora voglio ringraziarti per i bellissimi e meravigliosi figli che mi hai regalato. Non avrei potuto desiderare figli più adorabili di quelli che ho. So che mi hai scelto per prendere cura di queste meravigliose creature qui sulla Terra. So che sono angeli dal cielo, che hai mandato su questo piano come un regalo per me, di cui ti sono profondamente grato. Perché sono persone coperte dalla Tua grazia. Ogni giorno mi sorprendono con tutte le cose che imparano e che sanno. E so che è grazie a Te. Perché li hai bagnati col Tuo Spirito, hai donato loro tutti i Tuoi doni e mi hai dato l'incarico di educarli adeguatamente. Affinché diffondano la Tua parola nel mondo, affinché seguano i Tuoi comandamenti, affinché vivano sotto la Tua guida e costruiscano una casa secondo le Tue leggi. Perché in tal modo posso dimostrarti la mia gratitudine. Con ciò che mi hai dato, questo meraviglioso dono di prendere cura di queste persone che mi danno gioia e soddisfazioni ogni giorno. Perciò mi inginocchio di fronte a Te, ringraziandoti infinitamente per avermi regalato i miei figli. So che Tu li proteggi, li benedici e benedici la nostra famiglia. Che ci provvedi tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che, con il Tuo aiuto, saremo una famiglia santa degna di essere presa come esempio. Perciò ti ringrazio, Signore. Proteggici da ogni male. Benedici la nostra casa. Benedici i miei figli. Benedici i figli dei miei figli. E tutta la nostra famiglia. Sai che i miei figli sono la cosa più sacra che ho, e perciò, nella Tua infinita misericordia, ti chiedo di prenderti sempre cura di loro. Mantienili sotto il Tuo manto in ogni momento. Amen.